La ripresa di Liberi.tv in modo tale che possiate tutti quanti usufruire della ripresa, quindi invito i maestri pasticceri a raggiungerci qui alla zona dell'apoglio e dell'abbreviazione. Grazie e allora la parola alla dottoressa Benedetti. Mi coglie impreparata, però non c'è pensiero, è meraviglioso. Allora veramente un altro appello, i maestri pasticceri sono pregati di venire sul palco perché c'è un momento di ripresa anche televisiva della premiazione o perlomeno dell'attestazione di riconoscimento dell'attività e quindi vi prego veramente di venire. Ovviamente devo solo fare ancora un ringraziamento e questo ringraziamento non è solamente al dottor ovviamente Giordano che appunto ha ideato questa fiera nazionale che ha la sua sesta edizione del panettone del tattoro ma io devo ringraziare veramente la dottoressa Camilla Nata per averci annonato della sua presenza qui, ha dato un taglio veramente importante, non dirò mai abbastanza grazie. Ringrazio ovviamente le amiche che sono qui con noi e devo dire che c'era anche la Laura Naciatelli assieme al suo marito e all'avvocato, poi abbiamo sempre la presenza dell'associazione Onlus a malattie genetiche rare, ecco questo, poi ecco le nostre amiche qui che domani tra l'altro avrà una relazione, la Magnanto Benfiore, il dottor Martellini, l'organizzatore di questa Kermess che veramente ci ha stupito anche per una presenza così forte, non abbiamo altri maestri pasticceri che possono venire sul palco? Forza forza, vi rubiamo un minuto per la presenza, venite maestri pasticceri, vi aspettiamo, c'è credo in incognito ma io l'ho visto, il patron di Italy Luigi Cremona, se è in sala ancora perché l'ho visto entrare lo vorrei salutare perché lui è veramente un grande quando si parla di enogastronomia, invito i renatori, eccolo qua, vieni Luigi, un bel applauso al patron di Italy Luigi Cremona, grazie, grazie, tu voleva di essere l'incomico ma io ti ho visto, ciao Luigi, grazie, Luigi Cremona, grazie, resta con noi per la ripresa televisiva, allora i video relatori che non hanno ancora fatto l'intervista a fermarsi perché dopo la premiazione l'intervista per liberi.tv, quindi giusto due minuti, grazie, grazie a tutti, al via la premiazione, evviva, un bel applauso, grazie, a voi, a voi. Fate un appello, gentilmente, Lombardi, qui sul palco. Sono orato di dare questo riconoscimento al maestro Nicola Piasconaro per quanto riguarda l'innovazione e l'internazionalizzazione per il 2014, innovazione per il suo prodotto Kind, il nuovo nato, e l'internazionalizzazione perché è il maestro veramente un ambasciatore della pasticceria siciliana nel mondo, quindi io e il dottor Martellini siamo orati di consegnare questo riconoscimento al maestro Piasconaro. Chiamo anche la leggenda Nicoletti della azienda La Fornarina. di Cassino, tra le altre cose ho saputo, e faccio i complimenti, perché è diventata stata nominata Lady Chef di Cassino dell'Unione dei Cuochi Sociali della Federazione Italiana della cucina, quindi un applauso. E consegniamo questo riconoscimento speciale alla Fornarina come prodotto innovativo 2014, in verità sono due prodotti innovativi, palettone biologico e palettone alla quarta fiera. Consegniamo il premio a Valentina Nipoguola. Ora anche noi, un momento, c'è un altro piccolo dono floreale, c'è un dono generale. Grazie. Grazie. Allora, sono veramente onorata, non solo di aver avuto questa opportunità, ma anche di consegnare questa targa al dottor Emanuele Giordano, che è il presidente della Gold Day Event Organization e anche il titolare del brand della sesta edizione della Chiera Nazionale del Palettone del Pandoro, per avere contribuito, per avere contribuito, uguale appunto titolare del brand della Chiera, alla diffusione, valorizzazione e consumo di prodotti artigianali genuini della tradizione del Natale italiano e del Made in Italy, dando il giusto risalto alle aziende del settore. Però anche noi abbiamo un riconoscimento, un largo ricordo per l'Osservatorio Nazionale permanente sulla sicurezza, per il supporto dato all'organizzazione e per l'impegno confuso nel campo della sicurezza e della legalità. Siamo onorati di consegnare il premio alla dottoressa Emanuele. Grazie.